È un testo complesso, sì, sono oltre 250 articoli, ma tenete conto che parliamo di 55 miliardi pari a due manovre, due leggi di bilancio. Una manovra imponente, quella presentata ieri sera dal Premier Giuseppe Conte, sostenuto dai ministri Gualtieri, Speranza, Belanova e Patuanelli. Le risorse andranno a sostegno della stragrande maggioranza dei settori, ma secondo le varie associazioni di categoria queste rischiano di essere insufficienti. Dei 55 miliardi, 25,6 sono destinati al potenziamento della cassa integrazione e del bonus per gli autonomi. Ora dobbiamo attivare questi aiuti economici, soprattutto a coloro che non hanno ancora ricevuto nulla, e fare in modo che arrivi in maniera semplice, rapida, veloce. Annunciate anche misure a sostegno delle imprese, per le quali sono stanziati 16 miliardi. Per quanto riguarda la sanità, l'emergenza coronavirus ha prodotto, almeno per il momento, un'inversione di tendenza. Sono 3,25 miliardi per i covid hospital, l'assistenza territoriale e la terapia intensiva, più di quanto stanziato da tutte le manovre economiche degli ultimi tre anni. Per il rilancio del turismo, via Limu per alberghi e stabilimenti balneari, è previsto inoltre un bonus vacanze da svolgere sul territorio italiano di 500 euro, sotto forma di tax credit, per le famiglie con un'isee fino a 40.000 euro. Stanziati aiuti anche per le scuole, università e ricerca, è raggiunto l'accordo sulla questione che più di tutte ha fatto traballare il governo, quella dei migranti. Questi lavoratori, usa e getta, saranno regolarizzati giusto il tempo di offrire le proprie braccia a vantaggio delle aziende agricole, alle quali sarà perdonato lo sfruttamento del lavoro nero, pagando 400 euro allo sfruttato che decideranno di regolarizzare. Conte inoltre ha annunciato che non c'è alcuna intenzione di nazionalizzare grandi aziende. Che questa fase di ripartenza possa già concretizzare una prospettiva di ripresa economica e sociale. Per quanto riguarda le regioni invece, queste dal 18 maggio sostanzialmente potranno fare ciò che vogliono. Nelle prossime ore è attesa un'ordinanza del governatore Marsilio, tramite cui probabilmente si annuncerà la riapertura di pressoché tutte le attività, dal commercio al dettaglio alla grande distribuzione, fatta eccezione per centri sportivi e palestre che presumibilmente riapriranno il 25. I ristoranti abruzzesi potrebbero dover distanziare i clienti tra un tavolo e l'altro di soli due metri, mentre secondo la direttiva nazionale i metri dovrebbero essere almeno quattro. Sparirà inoltre l'autocertificazione, mentre prima di giugno non saranno consentiti gli spostamenti tra regioni. Marsilio ha chiesto a Conte di permettere gli spostamenti tra le zone di confine, ma finora non è giunta risposta. In Abruzzo inoltre ci si potrà spostare nelle seconde case, ma solo per il weekend.